Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube Mi trovate anche oggi inturbantato marcio Ma stavolta non sono le 4 di notte Non rischio attentati alle mie spalle Però il cappuccio fa sempre swag Oggi un video, secondo me, abbastanza importante Che mi avete chiesto veramente in tanti E che riguarda le impostazioni controller Difatti quest'anno sono state aggiunte delle voci Secondo me importanti e fondamentali All'interno delle impostazioni controller Andiamo a vedere di che cosa si tratta Andiamo a vedere io cosa ho selezionato E soprattutto perché E cerchiamo insomma di trovare una soluzione a questo grattacapo Che durante le streaming mi avete posto in tanti Quindi, con il nostro solito puletissimo cambio di scena Eccoci qui, in game Possiamo vedere, appunto abbiamo qui La schermata delle impostazioni controller E la prima voce che troviamo è quella del FIFA Trainer E subito una differenza rispetto a quelli che erano gli anni passati Difatti, vedete, mostra e non nascondi Mostra, infatti, non vorrà dire che sul vostro giocatore ci sarà quel pallino fastidiosissimo Che praticamente evidenzierà qualsiasi movimento, eccetera Dei vostri giocatori No Servirà bensì per poter fare quelli che sono i nuovi inserimenti In maniera tale che una volta triggerato l'inserimento E con la levetta analogica destra mandato il giocatore dove volete Vi si evidenzia qual è la corsa che il vostro giocatore sta andando a fare Quindi, di conseguenza Il mostra, secondo me, quest'anno Vale la pena lasciarlo Perché tanto non vi dà fastidio E si attiva solo in quel caso Per quanto riguarda finalizzazione a tempo Sempre verde, time and finishing Che serve o non serve Comunque, lasciarlo su sì Secondo me non crea alcun problema Indicatore cambio prossimo giocatore Questa è una cosa che io ho attivato Da quando è stata messa quindi su FIFA 19 E che trovo molto utile Perché vi permette di capire Quando selezionare i giocatori con L1 E quando con la levetta analogica destra Io mi regolo così solitamente Quando vedo l'indicatore vicino al giocatore Che voglio andare a switchare Schiaccio L1 Quando invece voglio andare a selezionare Un giocatore che non ha Quello che è il secondo indicatore in testa O magari si trova un po' più lontano Da quello che è il giocatore Col quale sto marcando il portatore di palla avversario Utilizzo l'analogico destra Quindi una cosa che da quando è stata implementata Io ho sempre trovato utile E lascio su sì Un'altra cosa che lascio su sì E l'aiuto intercettazione di passaggi Ovvero una sorta di appunto Aiuto in quello che è il bloccare passaggi avversari Anche se quest'anno i mediani vanno comunque un po' a spasso E quindi non è che più di tanto ne andiamo a risentire Cambio automatico Io personalmente utilizzo palle alte vaganti Aiuto movimento cambio automatico Io utilizzo limitato E significa questo che quando andate a switchare Il giocatore che voi andate a togliere Il cursore Continuerà a fare un limitatissimo numero di passi Verso il giocatore O verso la direzione nella quale stava andando Ovviamente la cosa aumenta Se con elevato Zero con nessuno Chiaramente Io mi trovo bene con limitato Anche se ad esempio con moduli come il rumbo Anche elevato potrebbe essere interessante Però limitato è una soluzione che ho sempre trovato Via di mezzo Quindi un buon compromesso Per quanto riguarda l'affronto Io dall'anno scorso utilizzo assistito E vi spiego il perché Perché ho utilizzato sia l'assistito che il manuale Onestamente non ci ho trovato queste differenze Quindi lascio assistito Perché ogni tanto un po' di assist nelle cose Non fa mai male Per quanto riguarda le novità Eccola prima Passaggio elegante Automatico Grazie Grazie mamma yay Per aver introdotto questa cosa Sacro santo no No Toglietelo Quante maledette volte vi è capitato Davanti alla porta In contropiede Passaggio Il vostro giocatore fa il colpo di tacco Che Dio lo prenda E vi fa sfumare le azioni Eccolo qua Così risolto il problema Mettete no e via Poi se siete amanti dei tocchi all'addigno Potete anche lasciare sì Però preferisco farli io con le due colpi di tacco Piuttosto che decida il gioco arbitrariamente Quando farli Un'altra cosa che è stata introdotta quest'anno È quella dei rimbi automatici E io colgo l'occasione per mettere no Perché i giocatori in movimento così Non allontanano la palla in maniera automatica Ma solamente se io vado a schiacciare il tasto E al momento voglio provarlo così Perché oggi mi è capitata una roba atroce Palla sulla linea di porta Arriva il mio Van Dijk Per spazzarla L'ha buttata nell'angolino All'ottantottesimo 3 a 3 Per fortuna poi la partita l'ho vinta Ma comunque Mi ero triggerato sufficientemente Da qui il mio mettere no Per quanto riguarda i tiri automatici Questa è sempre una voce nuova E su questa io direi di lasciare sì Perché ad esempio vi può capitare che Palla messa in mezzo Forte con un driven pass Il giocatore vi tira da solo Segna gg a lui Oppure colpo di testa Palo ribattuta vi tira da solo Segna gg a lui nuovamente Insomma queste cose qui di aiuto Che possono essere utili Non le disdegno Per quanto riguarda l'aggancio a giocatore Questa qui è una nuova feature Ovvero andando a schiacciare Contemporaneamente i due analogici Potete andare a selezionare Quello che è un vostro giocatore Fare il passaggio Il ricevitore di palla Sarà controllato la cpu Così voi potete scattare Con il giocatore col quale avete effettuato il passaggio E con a chiamare il passaggio Un po' come accade su pro club Una feature che secondo me Quest'anno se masterata Può essere determinante In molte situazioni Infatti io sto provando A capirla bene come funziona Per quanto riguarda invece Il dribbling agile contestuale Io ho messo no Cosa fa questo dribbling agile contestuale Ossia in alcune situazioni di campo Quando ad esempio Il vostro giocatore Portatore di palla Si trova a puntare un avversario Piuttosto che fare I soliti movimentini Con l'analogico sinistro Inizia a fare il dribbling Come se tenesse premuto R2 Anche no amico mio Fatti fatti tuoi Infatti non capivo io Non avevo realizzato Ci fosse questa voce Mi si facevano dei movimenti ambigui Mi stavo triggerando pesantemente Salvo risolvere in questa maniera Per quanto riguarda poi Colpi di testa assistiti Lasciamo sì Perché Per quelli che sono gli aiuti Che possono insomma Portare A dei A dei buoni frutti Ce li prendiamo Cambio con la levetta destra Ovviamente in base al giocatore Ovviamente lo switching Perché se mettete in base alla palla Penso che vi ricoverano dopo due giorni Oltre che iniziate a switchare cose a caso Aiuto passaggi raso terra Aiuto passaggi filtranti Anche assistito Aiuto tiro assistito Aiuto cross Anche assistito Perché vi permette di poter fare Il cross con R1 e B In maniera impeccabile Esce una fucilata Spesso e volentieri Cross potente teso in mezzo Così è segnata Ed esce solamente se mettete assistito Quindi io vi consiglio assistito Aiuto passaggio alto assistito Anzi no Su questo io metto manuale Raga Perché mi è sempre stato detto Di mettere manuale Dai tempi di FIFA 18 E fateci caso Dovrebbero venire dei lanci Con L1 triangolo migliori Al momento riprovo manuale Infatti Mi ero un po' triggerato ultimamente Metto manuale Vediamo vi faccio sapere Mi sono sempre trovato bene Aiuto parate Lascerei su semi Scatto analogico Questo cosa significa? Che attivando lo scatto analogico Potrai controllare la velocità Degli scatti Più tiene il blu Il puzzante per lo scatto Maggiore sarà la velocità Dei giocatori Io questo qui Metto no Avevo lasciato su sì Anche perché quest'anno C'è il doppio R1 Cosa vuol dire? Vuol dire che se schiacciate Due volte R1 Il vostro giocatore Si andrà ad allungare la palla E' una cosa che ho notato Ma un po' in conflitto Con questo scatto analogico Perché qualora lasciate Lo scatto analogico Non capisce bene il gioco Quando è scatto analogico E quando è doppio R1 Quindi io lascerei Assolutamente Così Poi per quanto riguarda Invece il bloccaggio Del ricevitore del passaggio Io direi Di mettere Tardi L'anno scorso ho provato presto Ma Con Tardi Ho trovato Qualche lieve Lieve miglioramento Perché così Mentre sta arrivando Il passaggio Al portatore palla Magari Spesso e volentieri Viene intercettato Potete switchare Non rimane quel giocatore Lì triggerato Che invece non ha mai Ricevuto il passaggio Quindi Io lascio Al momento Su Tardi Anche se volendo Si può mettere Tranquillamente Presto Vabbè Queste poi invece Sono i miei I miei tasti Che insomma Poco vi interessano Quindi Per quanto riguarda Impostazioni controller Per quest'anno Raga Si tratta Fondamentalmente Di queste Spero che abbiate Trovato Il video utile Fatemi sapere Voi su quali spunti Avete Avete Insomma Qualche perplessità In più Che magari Accendiamo un dibattito All'interno dello spazio Dei commenti Raga È importante Commentate Mettete mi piace Perché più Facciamo interazioni Più I video Insomma Appaiono Nella home Eccetera Quindi Pure se mi dovete dire Ciao Commentate Mettete like Che non vi costa niente E niente Raga Io Ho terminato Vi do appuntamento Lo sapete Ogni giorno in live Dalle 10 alle 16 E in questi giorni Con un prossimo video Quindi raga Un salutone And peace E in questi giorni